Sapevamo che sarebbe stata una battaglia, trasferta sempre complicata, quella di Lago Negro. Veniamo da un momento complicato, fortunatamente questa volta non abbiamo mollato come altre volte in trasferta. Abbiamo portato a casa un punto, adesso pensiamo alla prossima, abbiamo una settimana di allenamento, cerchiamo di migliorare quei piccoli, cioè piccoli, quei difetti che abbiamo e di migliorarci per la prossima partita.